Ciao a tutti gamers e bentornati dal vostro Ninox e riprendiamo con il nostro Crash Bandicoot Nell'ultimo episodio ci siamo fermati dopo essere riusciti a svolgere tutti i livelli del terzo piano Così poi riuscendo a battere e sconfiggere Tiny Adesso siamo qui al quarto piano, faremo livelli, non dico uno per uno ma li faremo qualcuno assieme E poi alla fine, se riusciamo, andiamo contro il boss del piano che onestamente non mi ricordo più chi sia Sono passati talmente tanti anni, sono tipo 10-15 anni da quando ho giocato gli ultimi Crash Quindi a voglia, alla memoria, a voglia Bene gamers, prima di cominciare come sempre vi invito a lasciarmi un bel pollicello nel suo Mi raccomando per poter supportare il canale e la serie Se non siete ancora iscritti mi raccomando iscrivetevi Infine gamers, per tenervi sempre aggiornati vi invito a cliccare la campanella in alto a destra Ovvero il tasto di notifica, così almeno quando io aggiorno il canale vi arriverà un messaggio Bene gamers, se poi c'è qualcuno che vuole farmi una domanda in particolare vi lascio questo Ovvero hashtag AskNinoxTheGamer Se volete farmi qualche domanda in particolare vedrò di rispondere E giusto, l'ultima cosa, se poi volete anche sfruttare anche i social, quelli che ho a disposizione Ovvero Facebook e Twitter, ben venga, sono lì e sono a disposizione Quindi se c'è qualcosa di particolare che volete chiedermi, buttatevi, non c'è nessun problema Bene, iniziamo subito con Hegging Out Ok, eccoci qua, no, ancora questo, no Lo odio Più quella lì, non ci credo, questo è uno dei più tosti Porca vacca Vai salta, oh, bene, ce l'abbiamo fatto, qua ci siamo Qui ci siamo, no Nooo Cominciamo già male Non voglio cicciarmi le vite prima del dovuto Ma fa un bagno, fa niente Vai Ho lo stronzo che adesso arriva Eccolo qua Guardali Guardali, guardali, maledetti Guardali Non voglio morire ora Dov'è il checkpoint Dov'è quel maledetto checkpoint Voglio il checkpoint Vediamo un po' qua O c'è una nitro o un TNT o un qualcosa Quindi vado schisce, vado con calma Ho una vite Che puccio Due vite Oh mamma mia Sacre vite Ok, qua dove cacchio vado Ma dove cacchio sono finito Ma santa pace, ma si può Vai Vai Questo che giro fa Oh mamma mia Vai Perfetto E questo è piuttosto però Fin dove arriva Porca vacca Io vorrei capire qui che giro che fa Per passare adesso è impossibile Ok Perfetto Giù Allora bugata In qua Oh mamma mia Amo Ne faccio Mi avevo la pazienza Devo fare Salta Ma scusa È impossibile che non ci arrivava lì comunque Vabbè Vabbè Mi avevo guadagnato il checkpoint Ma quello E qua Cacchio Ok Segue il percorso Che fa Questo Porca E questo qui Ma guarda questo come diavolo corre Ma si può Porca vacca Qua Perfetto Vai Vabbè Noi Prendiamo più o meno Possibili Via No Sbagliate Che piccio Ma qui Si apre Non si apre Non si apre niente Ok Prima però Prendiamo il checkpoint Il cristallo E andiamo indietro Vediamo un attimo Cosa che c'è Dove è che mi porta questo? Oh È una zona che io Non Non ho fatto Ma vai giù È troppo veloce Mamma mia Guarda quello come cavole è veloce Quell'altro Vai 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 Ma quanto cacchio è veloce Niente gamers È troppo difficile Quella parte lì Mi sa che devo studiarmela bene Ok Andiamo qua Allora Andiamo un po' Perfetto Oh Strega E qua Vabbè ce l'ho fatto Ma sono peggio Urca Qua Sì che è peggio Però Sarà tragica Non di più Ma che cacchio faccio Mamma mia Come faccio Cioè non ho fatto niente Giuro Mi sono mosso di un millimetro Ok Ok Oh va bene A uno Due Tre Quattro Cinque Forse era meglio se andavo di là E infatti era meglio se andavo di là Porco due No 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 Vai Vai Oh Meno male Meno male Non ne potevo più Ma perché devo fare sta fine di merda qui Ma vedete vedere adesso che cosa capita Porca boia Oh Finalmente Ti ho io proprio vedere qui come cacchio riesco Ci riuscirò mai Vai Vai Salta Salta E dovevo saltare Devevo saltare Ma perché è così storto Dai salta Porca boia Mi ho preso la gemma Sì Una facciazza tua Ma è tanguilla Oh Finalmente Uno è andato Allora Solito dance Del pifero Ok Adesso andiamo al secondo Ovvero il Digging hit Qual è questo qua Ehm Ma che è Guarda che fa sparare le bombe Va bene Vai 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 Bugada Guardalo Che pezzo di merda E questo Ma che è Oh No Dove è che va questo qui Oh Bastardo Va bene Oh porca boia Proprio la nitro Ok Perfetto No Ma sono passato Sotto Ma perché non va Ah Oh Vai Guarda Ma che stronza Ma che percorso di merda Vai Salta Guardale Ma vatti Vai Mamma mia Ma è stra difficile Tiene da schivare Ok Salta Dimmi che almeno Questo è semplice No Si è schiantato E basta Niente Niente Dai via E' saltata anche quella E' là Guarda lì 22 Deve essere le nitro Quelle lì Ok E' neanche una vita E' neanche una vita Ne ho appena tre Rendetevi conto voi Eeeh Urca questa qui E' quella della morte No no Meglio di no La facciamo un'altra volta Dai Mi piacerebbe farla però No Le api no Le api no Le api no Le api no No salta 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 Ok Ok Quattro l'altro Non è neanche il bug Da No Porco dieci Checkpoint Allia un pass Porca Devo rifarmi Tutto il percorso Ah Via Checkpoint Guarda Guardali Guardali Bastardi Maledetti Fino all'ultimo Ma che'è Ma a me non le mangio Ste cose Si che le mangio Guardali Guarda quanti sono Ma dai Non ci credo Ma non ci credo mai Via Bastarda Vai Spaccali Prendiamo un po' di mele qua Quanto manca alla fine Spero poco E qua Ma questo è percorso Quello della morte Eh Però lì sicuramente Non ci riuscirò mai E poi mai E poi mai E poi mai No Vai Salta Spedisci la via Ok Ma quello che cazzo è Here we go Ma che cazzo sei Oh Vattene via Vattene via No No le bombe No Vai Via Stronzo Proprio adesso 89 su 95 Fa niente Va bene lo stesso Via Andiamo a scappare A questo posto Oh Finalmente Molto bene gamers Eccoci qui Behaving L'ultimo Livello Del quarto piano Dopo sfideremo Il boss Chiamiamo se non riusciamo a fare questo livello senza bug e senza niente Va Vediamo un attimino Va Allora Allora qua Perfetto Ok Salta Perfetto Così godiamo molto più spazio eh Salta Perfetto Ok Uh Uh Andiamo a far cacate qua No No La beccate in pieno Ma che piccio Che piccio L'ho passata Ok Cos'almeno andiamo qua tranquilli Le api non ci vedono Poi saltiamo fuori Vediamo di saltare senza Ok Ma ritornano le bastarde Noi stiamo lì al riparo Perfetto Via Ok Questa è abbastanza easy Più o meno Ok Va bene Salta giù Ok Bravissimo Allora Imo Salta Uh Lì Perfetto Ce l'abbiamo fatta Ok dai Bisogna stare solo un pelino attenti Ce la zippo fare Ok Questo mi sa che sarà un po' piuttosto Salta Uh Via Via qua E check point No aspetta Adesso Vai Ok Bravo Vai Pia L'affare Vai Salta Uh Mamma mia Cos'è che ho fatto Uh Check point Bravissimo Bravissimo Ok Andiamo Oh mamma mia Piano eh Ok Seguiamo tutto il percorso Acchiappa le mele Bravo Vai Vai Urca è qua Uno Due Tre Porca vacca Che Che Ok Stavo dicendo una parolaccia Parolaccia dai Insomma È una parola Però Se no ci rischia Che me lo Demonetizzano Perché se mi Demonetizzano Questo Sono nei casini Ok No Sono nei casini Intanto Mi hanno tirato via La monetizzazione Da tutto Io praticamente Non sto facendo Più niente Sono qui che Praticamente Faccio le robe Gratis Salta Vai Niente È troppo lungo Troppo lungo Il percorso Ciao Vediamo un po' Se ce la facciamo Vai Ok Spero di sì Vai Perfetto Salta No Ne Cristoforo Lancio il joystick Contro il muro Porco Due Vai Perfetto Vai Salta Vai E no Mi becca Sempre qui Ma porco Due Oh Oh ma avete Rotto Avete rotto Giuro avete rotto Va No Ero giù Ero giù Vai Mi sa che non ho preso niente Se ho preso la gemma È un miracolo Ho preso la gemma Sono miracolato Oh Finalmente Cristallo Diamante Perfetto Perfetto Ho scoperto che i nostri nemici sono guidati dal dottore Nitrus Brio Inventore del raggio e volvo e responsabile delle nostre passate incomprensioni Già una volta mi ha costretto ad aiutarlo nel suo piano per la conquista del mondo Ora È tornato E farà di tutto per fermarci Occhi aperti Crash E usa la piattaforma Per consegnare cristalli a NG Ok gamers abbiamo visto il nostro Cortex che sappiamo che sta mentendo sponduratamente E siamo contro il dottor NG Quello che ha un rezzo sulla testa in poche parole Ok dai cominciamo Cioè ho le mele Posso lanciargli le mele Rendetevi quando vuoi Gondo voi Come cazzo parlo Ah mamma mia E adesso spara il raggio Ok Vai lancia Eh ma scusa ma E che faccio a beccarlo da lì No Ok Non so come non far beccarlo da lì però va bene Sì vabbè dai Vabbè dai Vabbè dai Vabbè dai Vabbè dai Vabbè dai E che cacchio Che vuoi prendere in giro Vai Vai Spacca lì Ok Anche questo è andato Che è abbastanza Abbastanza semplice stavo dicendo Però bisogna stare attento ad andare troppo in là Però con le mele è un casino Un casino Vai Che non gli tolgo via niente Dai cos'è? Ah una è andata Dai buona No è questo? Come funzica Oh Dai è rotto Ok Gli ne manca uno E ma che succede? Eh Ok Oh Abbiamo un po' Ti ho sistemato Sì Robot rotto Alla faccia Azzatua Alla grande gamers Siamo riusciti a battere anche Dottore NG Adesso vediamo un attimino All'ultimo piano Penso che questo sia È il quinto Ecco qua Questo qui sarà tostissimo Infatti Che diavolo ti prende Bandicoot Non ho intenzione di ripetertelo un'altra volta Trova i cinque cristalli rimasti E dalli direttamente a me Se come no Ci speri Bene gamers Io direi di concludere qui il nostro video Siamo andati ancora un pelino avanti con la storia Storia Oddio Con i livelli Abbiamo fatto Tutte le missioni presenti nel quarto piano Abbiamo sconfitto anche il dottor NG Il sottoposto Un altro dei sottoposti Il dottor Neo Cortex Bene Se il video vi è piaciuto Vi invito a lasciarmi un bel pollicione in su Mi raccomando Per poter sopportare il canale E la serie E se non siete ancora iscritti Mi raccomando iscrivetevi Bene gamers Se invece volete farmi qualche domanda particolare Risponderò A quelle domande Che avranno all'inizio l'hashtag AskNiloxTheGamer Mi raccomando ricordatevi Bene Direi che possiamo salutarci qui Un salutone qui dal vostro Nilox E ci vediamo al prossimo video Ciao gamers Ciao gamers Ciao gamers Ciao gamers Ciao gamers Ciao gamers